Agli Italian Mission Awards 2019 c'è Liliana Nessi, Travel Manager di Menarini Farmaceutici. È stata innovativa la vostra integrazione della piattaforma Booking.com all'interno del tool di prenotazione dei viaggi aziendali. Dopo un anno di utilizzo, quali sono i risultati raggiunti dai viaggiatori e come vorreste migliorare l'applicazione? La Menarini è un grande gruppo in Italia, è la prima azienda farmaceutica. Io gestisco tutto il gruppo Italia, sono 20 aziende e sono circa 1300 viaggiatori. Nel 2018 abbiamo processato ben 14.000 trasferte per cui ci siamo resi conto che avevamo bisogno di un aiuto e Booking.com è arrivata al momento giusto. Una piattaforma molto semplice, poca burocrazia anche per introdurla a livello legale, un'ottima assistenza. Abbiamo un referente commerciale giovane, molto brillante, molto supportevole che ci ha aiutato guidandoci in maniera molto snella all'inserimento di questa piattaforma. Dopo un anno possiamo dire che abbiamo raggiunto ottimi risultati perché abbiamo avuto una compliance da parte sia delle Travel Arranger che dei viaggiatori a cui è stato concesso di poter accedere direttamente alla piattaforma assolutamente quasi del 100%. È un programma che permette da parte del Travel Manager di poter controllare direttamente in tempo reale quelle che sono tutte le prenotazioni per cui per effettuare alcuni interventi correttivi c'è sempre tempo. Dopo un anno, ripeto, il risultato è stato assolutamente soddisfacente, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo e abbiamo avuto anche il piacere di ricevere un rebate per cui direi che siamo tutti soddisfatti, compreso i viaggiatori che hanno addirittura la percezione, la realtà di poter scegliere quella che è una struttura non solo in termini di rispetto delle tariffe che sono inserite all'interno della piattaforma ma anche come servizi, quindi un albergo piuttosto che un altro piuttosto che sentirsi sempre vincolato a quelle che sono le scelte aziendali. Quindi soddisfazione da parte delle Travel Arranger per la semplicità della gestione della piattaforma, un apprezzamento da parte dei viaggiatori che possono scegliere quelle che sono le strutture di preferenza e assolutamente soddisfazione da parte dell'azienda che ha uno strumento che gli permette di snellire quelle che sono le procedure di prenotazione e raggiungere degli obiettivi di saving e addirittura di rebate, quindi direi tutto bene.